L'ondata di freddo sta riducendo l'offerta di ortaggi per le gravi perdite di prodotto nei campi all'aperto e problemi anche in serra, soprattutto nel centro-sud Italia. Ma le difficoltà riguardano anche il resto dell'Europa e il bacino del Mediterraneo con conseguenti tensioni sui prezzi nel carrello della spesa. E' quanto emerge dal monitoraggio della Col di Retti sugli effetti di un'Italia capovolta con un inverno senza acqua al nord, alle prese con la siccità ed il gelo che ha tagliato i raccolti di verdure e ortaggi del mezzogiorno che rifornisce i mercati nazionali ed esteri. Nei campi è corsa contro il tempo per raccogliere le produzioni salvate dal gelo e per proteggere quelle sopravvissute dopo un 2018 che ha provocato danni all'agricoltura italiana stimati in circa 1,5 miliardi. L'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma e non solo ha stravolto le tradizionali differenze climatiche tra nord e sud, ma si manifesta con una più elevata frequenza di sbalzi termici significativi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Di quanto sono aumentati i prezzi? Allora, noi stiamo in generale nei prezzi comunque da mercato, in questo momento vendiamo 8 euro le ciliegie al chilo, purtroppo anche perché c'è stata comunque la pioggia che ha fatto i casini da anni. Vedo che comunque anche nei supermercati il prezzo più o meno è quello. Se avete notato l'aumento dei prezzi, insomma... Sicuramente no, poi noi che di solito veniamo qui a Campania Amica quindi non è che vediamo molta differenza. Da noi apprezzano il prodotto che abbiamo, se abbiamo la primizia è incontente di pagarla qualcosa in più perché tanto il sapore, il lavoro come lo facciamo è un sapore diverso. Il signor ha notato il rincaro dei prezzi? Certamente sì, basta guardarsi attorno, guarda le ciliegie, 8 euro è il minimo che costano, gli altri anni costavano così tanto? No, e quest'anno fanno anche schifo come sapore, capito? Però il rincaro non è solo questo, andate a vedere nei supermercati, è aumentato tutto. Diversa è la situazione per le produzioni frutticole, secondo Coldiretti, sia quelle già raccolte come mele, pere, kiwi, che quelle in fase di raccolta come agrumi, con prezzi all'origine per i produttori molto bassi o addirittura bassissimi nel caso delle clementine, su valori inferiori ai 20 centesimi di euro al chilogrammo. Tanti cali di produzione, quindi abbiamo ad esempio l'ortofrutta come zucchine o piselli con cali del 40-50%, quindi è difficile affrontare queste condizioni per le nostre imprese agricole. Se parliamo di frutta, l'esempio lampante è quello delle ciliese, quest'anno abbiamo avuto dei cali dal 70-80%, su certe zone marche abbiamo avuto anche forti grandinate che hanno veramente distrutto delle coltivazioni. Sul grano ancora, quindi cereali in generale, si pensano a un calo, che andremo incontro a un calo, però ancora i dati sono da valutare. Sui vigneti e olivetti probabilmente anche qui i dati sono da valutare, ma con cali del 10-15%. Bisogna comprare da produttori del territorio, perché sicuramente questo risentimento delle crescite dei prezzi che si aggira sul 10%, probabilmente il nostro consumatore ne sentirà di meno.